Per arginare la diffusione del virus nelle famiglie, il prefetto Attilio Visconti ha predisposto un piano per isolare i convalescenti dimessi dagli ospedali in bed and breakfast e in hotel scelti dai comuni. Contemporaneamente ha preparato un protocollo per guidare la ripartenza delle imprese, prevedendo tamponi e test sierologici ai lavoratori che devono rientrare in azienda. Non solo si è detto disposto ad aprire un tavolo di concertazione sul centro covid che potrebbe essere realizzato all'interno degli ospedali civili, tra molte perplessità. Nel frattempo, dopo oltre un mese di lavoro senza sosta nella cura dei pazienti affetti da covid-19, negli ospedali bresciani sono in arrivo nuovi medici che potranno alleggerire il carico sul personale medico allo stremo. Nell'ambito del bando nazionale lanciato dalla protezione civile ne sono stati assegnati altri 44 alla Lombardia e 12 di questi raggiungeranno la provincia di Brescia, come richiesto più volte dal sindaco Emilio Del Bono. In particolare quattro saranno inviate al civile e altri in ciascuna delle aziende sociosanitarie del Garda e Valcamonica. Complessivamente dunque nel Bresciano sono arrivati più di 200 medici, compresi quelli provenienti dall'Albania e dalla Polonia e nonostante il numero dei positivi continui ad aumentare, le persone, probabilmente complice il bel tempo, cominciano a mostrare segni di insofferenza, anche se le restrizioni sono state prorogate fino al prossimo 3 maggio. L'altro giorno in provincia di Brescia il 48% delle persone era in movimento. Per questo viene ribadita insieme ai controlli più approfonditi la necessità di restare a casa in questo fine settimana Pasquale.